La guerra tra i patriarca e il gruppo di giovani hacker di Anna Greca è scoppiata. E proprio allora Luce, innamorata di Filippo, si unisce a loro, scappando di casa. Maria cerca disperatamente di trovarla, sa che è in pericolo, come Anna Greca, anche se non sa il motivo per cui i mafiosi vogliono morti i ragazzi. Proprio allora, grazie ad un vecchio documento scovato dalla briola, Maria trova le prove che la morte di suo marito è legata al caso di Anna Greca. Lo dice a Luce, cercando di indurla a ricordare il giorno della morte del padre. La ragazzina era con lui in auto quando ha avuto l'infarto che lo ha ucciso. Ma Luce fa fatica a vincere il trauma e a ricordare cosa sia successo davvero seguendo Luce, i patriarca scoprono dove si nascondono Anna Greca e i suoi. Inizia per Maria una corsa mortale contro il tempo per salvarli prima che i killer li raggiungano e li uccidano. Ma nello stesso momento anche il piccolo Riccardo, senza che Maria lo sappia, si mette in pericolo. Se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi. Se non volete perdere nemmeno un video ricordatevi di attivare le notifiche tramite l'apposita campanella. servizio